guarda spazzola la Hoş lancio ragazzi benvenuto in questo mio video nagatti finalmente è uscito un nuovo aggiornamento di brawl stars ragazzi ci troviamo una roba un po' strana perché ragazzi sì ragazzi già là aperto Andiamo qua sopra i nostri trappaurati ragazzi C'è questo Ma ok Cioè in ogni brawl Questa è una roba fantastica E poi ragazzi il pezzo forte Sei casse enormi Apriamole Ragazzi apriamole tutte Vediamo se riusciamo a trovare il nostro Mr. P Intanto ragazzi il lag come sempre Uh Ok Ok tre Dai ragazzi vediamo di trovare magari un altro nuovo brawler Ok poi un'altra vai Un'altra un'altra Due skip niente Ok vediamo questa qua Ragazzi ispiriamo Ispiro nelle ultime niente Quattro biglietti Vabbè Poi ok qua niente Uh otto gemme ottimo Cioè ragazzi GG 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 veramente Beh poi dopo qua Bellissimo skin di cola Ragazzi l'hanno fatta apposta per l'Australia Che sta andando a fuoco Purtroppo ragazzi Niente ragazzi Quindi qua Se adesso la selezioniamo Ci esce Questo Che noi praticamente avevamo selezionato Quella skin Tutto ragazzi Andiamo subito a provare insieme a voi Il nostro Mr.P Tutto ragazzi Schemata di caricamento È tipo Bellissima Quindi boh Ok ragazzi Vediamo subito come è il nostro Mr.P Allora ragazzi Allora ragazzi Il nostro Mr.P fa Settecento Settecento Ah ragazzi Guardate una cosa Se noi tiriamo Ragazzi In pratica esplode Ed escono dei calzini Ok Molto bella questa idea Del doppio colpo Che in pratica Lanciando la cosa Esplode Molto bella questa idea Ragazzi Proviamo subito la ulti La ulti ragazzi In tira Da quanto ho visto In alcuni video Esatto In pratica C'è questo mini pinguino Che spara Fa 250 Che dopo ragazzi Naturalmente Maxando Mr.P Farà molto Molto di più Intanto ragazzi Vediamo qua Cosa ha effetto Uh Vabbè ragazzi Dai Supponendo Che è un brawler Epico Cioè Scusate ragazzi Cioè Intendo Sì ragazzi Forse è un brawler epico Sto dicendo una cavolata No ragazzi Supponendo che è un brawler Mitico Ragazzi È Un po' scarsino Eppure è vero Che adesso è livello 1 Perché abbiamo provato E niente Comunque ragazzi Guardate che belli Di tripanda I ragazzi Tipo I quale Ragazzi I quale E niente ragazzi Vabbè ragazzi Questo video si conclude qua Grazie mille di tutti quanti Di aver guardato il video Lasciate like Mi raccomando Spolliciate Condividete E ciao ragazzi Ciao ragazzi